In tempo di crisi anche i magistrati si ribellano per Italia i loro stipendi. Sulla scia dei ricorsi presentati su iniziativa della NM in tutta Italia, anche i magistrati della Corte d'Appello di Lecce si sono rivolti al TAR della città barocca, mettendo in dubbio la costituzionalità della decurtazione della loro indennità speciale prevista dall'articolo 9 del Decreto Legge 78 del 2010, una delle tante manovre finanziarie del governo Berlusconi. Taglio che si aggiunge a quello ulteriore fissato per tutti i pubblici dipendenti. Dal presidente della Corte d'Appello Mario Buffa al giudice Cinzia Vergine, dal PM Stefania Mininni al procuratore di Brindisi Marco Di Napoli, sono oltre una quarantina le toghe del distretto di Lecce, Brindisi e Taranto che con l'avvocato Michele Maggio si sono ribellate. E il Tribunale amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che prevede i tagli destinati a crescere nel triennio fino al 2013. In pratica si tratta della decurtazione di una somma di denaro fissa, 350 e 200 euro mensili, uguale per tutti i magistrati, da quelli di prima nomina ai consiglieri di Cassazione, che maschererebbe per i ricorrenti, ed evidentemente anche per il TAR, un tributo vero e proprio. Tributo che però non rispetta i principi di progressività e proporzionalità previsti dalla legge, anzi sarebbe addirittura regressivo, essendo fisso per tutti, andando così ad incidere in maniera più pesante sugli stipendi dei più giovani, sicuramente inferiori rispetto a quelli dei più anziani. Inoltre questi tagli non rispetterebbero il principio di uguaglianza tra tutti i lavoratori, essendo rivolti arbitrariamente solo a questa categoria. E anche se a qualcuno verrà da commentare, anche i ricchi piangono, l'ultima parola ora spetta alla Corte Costituzionale, che ha rimandato al 3 luglio prossimo la discussione della questione, visto il gran numero di ordinanze di questo tipo, che i tribunali amministrativi di tutta Italia stanno emettendo.